Buone notizie per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che servono alle maestranze che sono in cassa integrazione alla Cantarelli di Terrontola. Infatti i sindacati hanno comunicato all'interno dell'assemblea sindacale che la cassa integrazione sarà prorogata. Insomma andrà fatta la domanda ma al Ministero ci sono tutte le condizioni perché questa possa durare per tutta la procedura concorsuale. Quindi per tutta l'amministrazione da parte del commissario straordinario che dovrà portare questo marchio verso la vendita. Direi abbastanza buone. Ieri abbiamo avuto un incontro con il funzionario del Ministero con il quale avevamo preso contatto. Diciamo che gli ammortizzatori sociali dovrebbero allo stato delle cose essere garantiti per i prossimi 12 mesi. Chiaro che si tratta sempre di presentare una domanda ma le condizioni ai sensi di legge ci dovrebbero essere tutti. E questo già ci può consentire di approcciare il problema dell'avvio della procedura d'amministrazione straordinaria e quindi della ripartenza della Cantarelli come noi ci auguriamo nel migliore dei modi. Il commissario Romagnoli ha ricevuto l'incarico ufficialmente con decreto del Ministero martedì e scorso e ha già avuto un primo contatto con i rappresentanti sindacali e quindi con questo passaggio parte veramente l'amministrazione straordinaria della Cantarelli. Romagnoli ha preso pieni poteri. Noi abbiamo avuto occasione di incontrarlo, ci sembra una persona molto motivata a cercare di risolvere questa situazione. Avevamo questo problema legato allo stato di insolvenza che aveva portato la Cassa Integrazione al 2 di novembre che doveva essere risolto immediatamente. Sembra che gli spiragli ci siano, noi faremo la richiesta e il benestare del Ministero ci porta verso una strada abbastanza positiva da questo punto di vista. Grazie a tutti.